Gheleo Ghelei ha innovato profondamente la fisica ma anche la meccanica, l'astronomia del suo tempo introducendo o compiendo delle stoperte che hanno messo in crisi i fondamenti della scienza lui contemporanea. In modo particolare si occupò del moto dei corpi celesti e pertanto viene considerato come il fondatore della dinamica scientifica moderna. Questo perché ad esempio per la fisica aristotelica l'acquiete era lo stato naturale dei corpi sublunari cioè collocati al di sotto della luna essendo il moto per questo tipo di corpi qualcosa di temporaneo che viene meno una volta che cessa l'applicazione della forza che lo produce, che lo causa. I moti pertanto da Aristotele nella fisica aristotelica, dalla fisica aristotelica, venivano divisi, distinti in due soli tipi i moti naturali e i moti violenti. Era naturale per Aristotele il moto con cui un corpo si dirige verso il suo luogo naturale che per i corpi pesanti era il basso mentre per quelli leggeri invece era l'alto mentre è violento il moto che allontana un corpo dal suo luogo naturale. Ora, secondo il principio di inerzia, un corpo invece tende a conservare indefinitamente il proprio stato che sia di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non intervengano forze esterne atte a modificarle. Con questa intuizione che in parte riprende volendo la teoria dell'impetus formulata già da Cusano, Galilei supera due pregiudizi di derivazione aristotelica ovvero l'idea che soltanto la quiete sia naturale e l'idea che il movimento si mantenga soltanto finché permane la forza che lo provoca. A dire il vero, Galilei non ha formulato esplicitamente il principio di inerzia questo poi troverà successiva posteriore formulazione di noto anche come primo principio della dinamica a partire da Newton ma è inevitabile e indubbio come la prospettiva, le intuizioni, l'apertura mentale di Galileo Galilei andassero oltre, si collocassero già oltre le strettoie e le limitazioni della fisica aristotelica del tempo. Questo principio di inerzia dunque valido sia per la dinamica valido per la dinamica terrestre consentiva di spiegare perché il movimento dei pianeti e della Terra potesse continuare indefinitamente. Secondo la fisica aristotelica inoltre la velocità di caduta dei corpi era direttamente proporzionale al peso dei corpi stessi e veniva accelerata da una spinta comunicata al movimento dall'aria. Gli Galilei perviene invece a risultati diversi e per certi aspetti opposti alla fisica aristotelica a quanto asserito dalla fisica aristotelica. Per mezzo di un cosiddetto esperimento mentale cioè eseguito soltanto in teoria Galilei ha osservato che se i due corpi dello stesso peso cadono insieme e se durante la caduta fortuitamente si uniscono essi andranno a costituire un corpo unico che avrà un peso doppio ma che si muoverà con la medesima velocità dei corpi singoli in quanto nessuno dei due corpi varierà la propria velocità per il fatto di essere unito all'altro o staccato da esso. Ciò significa dunque che tutti i corpi qualunque sia il loro peso cadono con la stessa velocità e se l'esperienza immediata sembra confutare tale legge ciò è dovuto soltanto alla resistenza opposta dal mezzo in cui i corpi si muovono ossia dall'aria nel caso della caduta di corpi di natura e di peso differenti. ovviamente Galilei non poteva dimostrare sperimentalmente questa sua intuizione poiché le competenze e le capacità tecniche del tempo non glielo consentirono ad esempio la pompa d'aria per poter creare il vuoto verrà scoperta soltanto successivamente indipendentemente dal fatto che questo esperimento sia stato davvero eseguito o no se è stato eseguito o no si narra che si è recato in cima alla torre di Pisa e lì abbia lasciato cadere dall'alto due corpi una piuma e una pietra di natura diversa questo esperimento conferma la teoria di Galilei e smentisce Aristotele poiché secondo l'ostagirita nell'istante in cui la seconda sfera è stato toccata a terra la prima avrebbe dovuto compiere avrebbe compiuto soltanto la centesima parte del percorso essendo il loro peso in un rapporto di 100 a 1 la piccola diversità riscontrata nella velocità della caduta ai corpi rientra invece pienamente nella teoria di Galilei studiando la caduta ai gravi Galilei arriva anche al concetto di accelerazione egli infatti comprende che un corpo in caduta libera non scende dall'alto verso il basso con velocità costante ma con un moto rettilineo uniformemente accelerato cioè con una velocità che subisce incrementi regolari e costanti direttamente proporzionali all'intervalli di tempo che via via vengono impiegati nella caduta Galilei intuisce d'altro canto la verità del copernicanesimo fin dall'inizio dei suoi studi ma soltanto in seguito cioè soltanto grazie all'utilizzo del cannocchiale da lui perfezionato pervenne ad alcune importanti scoperte che nel 1610 divulga nel Sidereus Nuncius consapevole di come esse rappresentino al tempo stesso la verifica empirica del copernicanesimo nonché il colpo decisivo inferto alla vecchia cosmologia ora, secondo la tradizione aristotelico-tolemaica la Luna, analogamente agli altri corpi celesti e a differenza della Terra presentava una superficie liscia e levigata i corpi celesti erano perfetti mentre la Terra era imperfetta e dunque la soggetta andava soggetta a fenomeni di generazione e corruzione con l'utilizzo del cannocchiale Galilei scopre invece la presenza di macchie scure anche sulla superficie lunare e giunge alla conclusione che siano ombre proiettate da montagne lunari sotto l'effetto della luce del Sole e allora la superficie della Luna non era affatto liscia e levigata ma era rugosa nel senso che proprio come quella della Terra presenta prominenze, valli ed anfratti di conseguenza la superficie della Luna appariva irregolare successivamente scoprendo i quattro satelliti di Giove che lui ribattezzò satelliti medicei in onore di Cosimo II dei Medici i quali compiono attorno a Giove movimenti analoghi a quelli che la Luna compie attorno alla Terra e partendo dal presupposto che Giove insieme ai propri satelliti ruotava intorno al Sole Galilei giunse alla conclusione che nulla vietava nulla era di ostacolo di impedimento a pensare che anche la Terra con il suo satellite naturale e la Luna ruotasse intorno al Sole si fa dunque spazio alla dimostrazione sperimentale effettiva oggettiva della verità del modello copernicano e della falsità del modello tolemaico cioè il Sole diventa il centro dell'universo e la Terra ruota attorno al Sole insieme agli altri corpi celesti d'altro canto secondo la cosmologia tolemaico i corpi celesti essendo perfetti erano anche incorruttibili cioè non soggetti ad esempio al divenire al mutamento alla trasformazione ma sempre grazie all'uso del cannocchiale Galilei scopre la presenza di macchie oscure che compaiono e scompaiono sulla superficie del Sole di conseguenza la presenza di queste macchie solari attestano attestavano l'esistenza in atto di un processo di trasformazione e dimostrando clamorosamente che anche i corpi celesti sono soggetti a fenomeni di alterazione e di mutamento peraltro sempre grazie all'uso del cannocchiale scopri la presenza di fasi sulla su Venere molto simili a quelle lunari e ciò lo indusse a pensare che questo corpo celeste non percorresse un epiciclo collocabile tra la Terra e il Sole ma un'orbita invece centrata sul Sole e che proprio da quest'ultimo come la Luna ricevesse la sua luce tale scoperto fino a lo spunto per ritenere questa spiegazione potesse essere valida anche per gli altri pianeti che sarebbero dunque stati tenebrosi per natura illuminati esclusivamente dal Sole sempre grazie all'uso del cannocchiale stuprì inoltre che oltre le cosiddette stelle fisse o cielo delle stelle fisse che erano visibili all'occhio nudo ne esistevano innumerevoli altre le quali prima di allora non avevano potuto essere viste tutte queste stelle si affollavano davanti al mezzo di osservazione disseminate nello spazio come immense reggi di piccoli punti luminosi formando quelle che oggi sono note come galassie forte di queste scoperte lei parlò allora subito e a ragione di funerali della scienza aristotelica ma con questa affermazione si attirò lo sdegno la reazione della vecchia cultura scolastica che reagì in maniera sdegnata e vi fu anche persino quanti si rifiutarono di osservare il cosmo e il cielo attraverso il cannocchiale ritenendolo o giudicandolo uno strumento diabolico che restituiva immagini deformate della realtà altri invece accettarono di provare la nuova tecnologia ma fermarono di non vedere affatto ciò che vedeva Galilei circa vent'anni dopo con l'avvento al pontificato di Urbano VII a Galilei parve che i tempi fossero mutati e diventati più favorevoli per il copernicanesimo e quindi per il progresso della scienza fiducioso quindi in questo nuovo corso nel 1632 diede alle stampe il suo capolavoro scientifico letterario che è il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo il tolemaico e il copernicano in cui con il pretesto di presentare in modo imparziale senza cioè prendere posizione a favore dell'uno o dell'altro di presentare imparzialmente i due maggiori modelli cosmologici della storia il tolemaico e il copernicano espose in realtà alcuni argomenti decisivi in favore del copernicanesimo per presentare la teoria geocentrica Galilei delinea il personaggio di Simplicio un pedante dalla mentalità conservatrice e tradizionalista attaccata al senso comune autorità aristotelica a difendere la teoria copernicana invece Salviati un altro personaggio ispirato ad un nobile fiorentino storicamente esistito nonché amico di Galilei che in persona ha l'intelligenza chiara rigorosa ed anticonformista dello scienziato moderno il ruolo di moderatore tra Simplicio e Salviati cioè tra i sostenitori della teoria tolemaica e i sostenitori della teoria copernicana viene attribuito a un altro personaggio ovvero Salredo un nobile veneziano anche esso sicuramente esistito nonché anche gli amico di Galilei che incarna il prototipo il modello di una personalità non oppressa dai pregiudizi e quindi tendenzialmente simpatizzante delle nuove dottrine il dialogo è diviso in quattro giornate nella prima delle quali Galilei pone sotto accusa l'istensione istotelica tra mondo celeste e terrestre con argomenti tratti dall'osservazione astronomica divulgate nel Sidereus Enuncius e dai suoi studi di meccanica la seconda giornata è dedicata alla confutazione degli argomenti tipici antichi e moderni contro il mondo della terra alla base di tutte queste obiezioni o della confutazione di tutti questi argomenti vi è il cosiddetto principio della relatività galileiana secondo cui risulta impossibile decidere sulla base dell'esperienza compiuta all'interno di un sistema chiuso se tale sistema si è inquiete o si muove di moto rettilineo uniforme anticipando di diversi secoli una intuizione o una giustificazione uno sviluppo ulteriore compiuto da Albert Einstein in base in base a questo principio dunque in quel sistema quasi inerziale che è la terra l'area circostante si muove insieme con la terra stessa e i ravi cadendo si comportano come se essa fosse immobile nella terza giornata del dialogo galilei dimostra il moto di rotazione della terra ed esalta la concezione copernicana riconoscendo la capacità di spiegare fenomeni altrimenti inspiegabili e di chiarire con rigore e semplicità matematica alcuni problemi che il sistema tolemaico aveva inutilmente complicato nella quarta giornata infine galilei espone la propria dottrina delle maree attribuendo anche lo spostamento delle masse d'acqua all'effetto della rotazione della terra su se stessa